Io sono Laura Innocente di Mercer e curo tutta l'area di Talent Assessment and Development. Con me c'è Valentina Mosca, Solution Lead della Part Day. Chiamo insieme a noi Gianluca Orefice, Direttore Human Capital Organization di Autostrade per l'Italia. Direi che ci possiamo accomodare. Vai, vai al centro. Questo funziona. Questo forse anche. Ok. Bentrovati e bentrovati. La nostra prima sessione di approfondimento. Il tema che tratteremo in questa prima mezz'ora, grazie anche al supporto e ai racconti che ci farà Gianluca, è uno dei temi che è emerso tantissimo dalla tavola rotonda di questa mattina, ovvero il grande tema della People Sustainability. Non sto a ripetermi e non stiamo a ripeterci rispetto al contesto. La tavola è, come dire, rotonda. Prima tutte le persone che sono intervenute hanno, come dire, raccontato che questo è lo scenario in cui ci stiamo muovendo. A partire dall'intervento del Rettore che ha aperto sul demographic shift, per cui su come questo cambiamento demografico rappresenta una complessità da gestire, a quelle che vengono chiamate wild card, che si ripropongono con più frequenza e più rapidamente rispetto al passato e che cambiano il campo da gioco in modo significativo e molto velocemente. Parlavamo di velocità. Parlavamo anche della grande attenzione che tutto l'intero ecosistema degli stakeholder, come lo chiamiamo noi, ha alle tematiche sociali. Perché abbiamo visto come la pandemia abbia ampliato in modo importante quello che viene chiamato il social divide, per cui oggi abbiamo la ricchezza che è distribuita in modo molto più asimmetrico rispetto al passato e questo sta generando nelle nostre comunità socio-economiche parecchia tensione in questo momento. E dicevamo prima, le aziende sono chiamate a dare delle risposte, a giocare un ruolo come abilitatori di una società migliore, di una società più giusta, come costruttori, come contributori di una costruzione di futuro diversa rispetto a quella che ci si prospetta davanti. Ed ecco perché c'è un'attenzione fortissima da parte dei mercati, da parte degli investitori, da parte dei consumatori, da parte delle persone che abitano e lavorano all'interno delle nostre organizzazioni a tutti i temi di sostenibilità. Fink già nel 2020 ci diceva e diceva alle organizzazioni che la sostenibilità è il motore della longevità dell'organizzazione. Quindi tema ISG lo vediamo presente, lo vediamo finalmente sempre più intrecciato ai piani industriali, lo vediamo comparire nelle politiche di remunerazione, per esempio a breve e lungo termine abbiamo fatto un osservatorio non molto tempo fa con i comitati di sostenibilità in cui abbiamo proprio dibattuto di queste tematiche, la S sta diventando sempre più preponderante. Cioè mentre fino a un tot di anni fa vedevamo presenti nei piani industriali e nelle politiche di remunerazione, che quindi ci dicono dove in qualche misura si sta orientando l'organizzazione, a che cosa riconosce valore, vedevamo tantissimi indicatori della E, negli ultimi 4-5 anni gli indicatori del mondo S sono molto più presenti rispetto al passato. Si comincia a parlare di total social impact, per cui le aziende sono chiamate a generare valore non solo per le persone che le abitano al loro interno, ma anche a intrecciare relazioni virtuose con le proprie catene di fornitura, con le comunità in cui operano, creare partnership con imprese del terzo settore, in modo di nuovo da generare comunità che possono essere nutrite e nutrienti a loro volta per la società. E il tema della governance, citato di nuovo nella tavola rotonda di prima, c'è bisogno di un governo. E c'è bisogno di un governo che abbia una serie di caratteristiche al suo interno e che si impegni con una serie di azioni al suo esterno. Quali sono queste azioni di nuovo, sempre dentro al cappello della sostenibilità sociale? Questa è una white paper a cui abbiamo contribuito, ma non solo noi, e che ha coinvolto il CEO delle organizzazioni per definire, va bene, ma quali sono i good work standard? Qual è quel good work framework che le organizzazioni si devono dare nei confronti delle persone per avere il massimo ROI, cioè per ottenere il massimo ritorno di investimento? E troviamo questa definizione di questi cinque punti prioritari, che tra l'altro se li guardiamo li ritroviamo nel racconto della tavola rotonda di prima, poi Gianluca adesso ci racconterà cosa fa autostrade, no? Però, come dire, c'è un filo rosso davvero che collega tutto quello che abbiamo ascoltato fino a qui. E come vedete si parla di equità, di equità retributiva, ma anche di neutralità tecnologica, nel primo punto. Si parla di flessibilità, e con la flessibilità viene come garantisco la sicurezza ai miei lavoratori. Cioè, e stanno insieme queste due cose. Si parla di come presidio un people risk, ce ne parlerà dopo Alessandro, che ha a che fare con la salute del lavoratore, no? Siamo tutti in sindrome da stress post-traumatico, tutti, tutti con almeno uno o due sintomi di burnout, questo è un costo da presidiare. Ed ecco qua che le nostre, come dire, azioni, strategie, si informano anche, e di nuovo ce ne parleranno i colleghi in un'altra sessione. C'è tutto il tema importantissimo della diversità, dell'equità, dell'inclusione, per cui come, come organizzazione, genero e sono in grado di generare un ambiente, un torneo equo dove il talento possa emergere, dove la diversità possa essere valore aggiunto, complementarietà, perché ne parleremo tra un attimo, ne parlavamo poco prima io e Gianluca, la complessità richiede un pensiero collettivo per essere governata e gestita. Ed ecco perché la diversità in questo momento fa la differenza di più rispetto a ieri, perché abbiamo bisogno di un pensiero diverso e divergente per poterla contenere. E ultimo, ma non ultimo, punto, è il grande tema, altro grande tema citato in tavola rotonda, delle competenze, per cui di come io continuo a mantenere le mie persone attrattive sul mercato. Uno diceva che il turnover che abbiamo ha un controsenso, e no, perché abbiamo visto le giovani generazioni quanto è importante per loro la spinta all'apprendere, all'imparare, e quindi un'organizzazione che ha in piedi dei buoni programmi di employability sulle persone, ovvero le rendo attrattive anche per il mercato esterno, in realtà sta facendo una strategia di retention non banale. Quindi, fatta questa primissima grande cornice, io chiederei, e ho dietro di te la prima slide che ci hai consegnato, ma People Sustainability è un mondo? Significa lavorare su tanti stream? Significa lavorare in ottica sistemica, multidimensionale, multitarget, multitutto? Cosa fa Autostrada? Inizio con un giochino con voi, perché la sessione e il contesto è tale che ci si sente a casa, ecco, quindi mi permetto di giocare, perché è una roba che sblocca, e metto anche io il piano. Non c'è alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese, se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile. Il giochino è trovare chi l'ha detto, quando l'ha detto, e che è una roba che possiamo giocare, abbiamo giocato, l'abbiamo sentita più volte, però è davvero divertente immaginare che questa cosa sia stata detta nel 720 a.C. dai Siodo, ma se andiamo ancora dietro nel tempo e lo vedemmo da qualche parte, i sacerdoti babilonesi lo iscrissero su qualche cosa, tipo un vasellame, dicendo che le nuove generazioni sono quelle che porteranno alla distruzione dell'umanità. Ecco, questo è un monito per dire che le nuove generazioni probabilmente troveranno sempre il peso e dovranno sempre superare questo gravosissimo bias che le vecchie generazioni scaricano addosso, immaginando che il futuro sia qualcosa di terribile, perché non ci si ritrova. Ecco, nel non ritrovarsi è un po' il gioco che Autostrade ha fatto, è il gioco terribile che è stato il boost ricevuto dalla tragedia e che però è stato un boost quasi di sopravvivenza, quindi è una roba data, non potevamo non cambiare. E quindi, come dire, c'è anche un'inerzia positiva che va letta in questo è un'inerzia positiva che ci porta a raccontare quello che è stato il percorso post Morandi che nel 2020 ha visto il mio ingresso in azienda, ma chiaramente Luca, come tanti altri, sono entrati in azienda e hanno immaginato un mondo diverso. Controintuitivo, volendo anche, perché erano gli anni anche del Covid, quindi, e questo lo sottolineo spesso, sentivamo tutti noi il bisogno di un'umanità diversa, un umanesimo industriale che ci desse l'opportunità di raccontare una storia differente dell'uomo. Anche questo, abbastanza poco realistico, non c'è stata una ventata di coscienza collettiva bonista, no, non è vero per niente, anzi, probabilmente molti si sono incattiviti da questa dimensione di cattività, cioè questa chiusura in realtà ha generato delle psicopatologie differenti. Abbiamo però dovuto inventarci qualcosa di diverso, abbiamo dovuto inventarci, ed è stato il primo atto nel quale sono entrato, nel riconoscere a quella umanità il valore del dare un contributo anche in condizioni estreme o condizioni non note. Quindi il diritto all'oblio, alla disconnessione, all'epoca si parlava, diventò un vero e proprio diritto, almeno ci muovemmo così con le organizzazioni sindacali per dare atto alle persone che mettevano a disposizione un tempo molto più pieno, molto più largo, si direbbe oggi. Il tema della sostenibilità l'abbiamo affrontato come tutti e immaginiamo che la vera sostenibilità dell'impresa è avere i conti a posto, innanzitutto, perché quella non è data. E un secondo dopo la sostenibilità, anzi parimenti a quella sostenibilità, anche per l'accesso al credito, per cose che sembrano molto più terrene, ma che danno la dimensione del fatto che quando attraversiamo questa fase sulla terra dobbiamo occuparci di cose realistiche, affrontiamo anche la numerologia che sta dietro la sostenibilità. E quindi la materialità di ciò che facciamo e le opportunità che ci dà la sostenibilità o un pensiero sostenibile che è il pensiero con il quale attraversare la complessità. È bella l'immagine anche di Enea che affronta il mare, sì, come dice la comica, ci mette dieci anni per fare 500 miglia, quindi tutto sommato forse aveva una vocazione a stare lontano dalla famiglia e dagli affetti, ma il figlio poi quando lo riaccoglie gli racconta che tutto sommato lo perdona e gli dà anche quella nuova animosità per arrischiarsi. Quindi il confronto tra vecchie e nuove generazioni per noi è stato un mantra assoluto, perché dovevamo rigenerare assumendo 500, 5.000 persone nuove su 8.000, 9.000, adesso andiamo quasi per i 10.000, vuol dire fare un reshuffle potente, violento, anche drammaticamente necessario per acquisire nuove competenze perché il valore fondamentale di quel business non era più solo l'infrastruttura, certo data, fin troppo data per chi come della mia generazione immagina che le infrastrutture siano qualcosa di eterno, siamo abituati male o bene dalla cultura dell'infrastruttura romana, le strade, ancora le vediamo, beh le strade hanno una vita, hanno una vita residua che va allungata, va manutenuta, strutturata, innovata, resa future proof e quindi monitorata, renderla sicura perché è libertà quell'infrastruttura come tutte le altre infrastrutture di molti colleghi che sono qui, che gestiscono aziende nelle quali l'infrastruttura è una roba che costa e quindi su questo invece abbiamo costruito l'idea che l'infrastruttura però è anche un modo per generare il valore aggiunto alla comunità di essere non solo volano economico-sociale ma anche essere l'opportunità di aggregare dei business ancillari alla stessa e quindi il mass, quindi la mobility as a service, la smart city, l'opportunità di ripensarla in termini di rigenerazione anche di economie circolari legate all'opportunità che lungo il nastro autostradale ci potessero essere dei pannelli per iniziare a fare anche noi esercizio di ovvero elettrificare la stessa rete perché poi il bias ha portato il PNRR a immaginare che l'infrastruttura autostradale fosse brown e beh certo è brown per definizione ma può essere meno brown di quanto la immaginiamo perché può indurre invece a comportamenti di cittadini virtuosi e quindi deve fare la sua parte perché sia anche quello un elemento strategico dell'impresa stessa e quindi l'elettrificazione della rete le 100 colonnine elettriche fast charge ed è bellissimo quello che hanno fatto loro cioè immaginare che le aziende siano life company cioè con piccoli gesti condizionano la vita delle persone all'interno e all'esterno delle comunità che attraversano tutte le nostre aziende sono life company cioè fanno in modo che le persone che stanno dentro una volta quando stavo in Deutsche Bank mi dicevano tu porti il brand addosso c'era questa esemplificazione forza estrema dell'immaginare che l'azienda fosse la persona oggi l'azienda è parte della vita delle persone e i giovani immaginano che questa parte la vogliono fare ritenendosi parte dei valori di quell'impresa non del brand in quanto tale ma della capacità che quel brand ha di ridargli e redistribuire valori alle comunità e fare in modo che ci sia un aspetto di cointeressenza valoriale con le persone stesse per sentirsi pars integrante di che cosa fa l'HR oggi quindi perdonatemi se vado oltre le domande e cerco di cogliere gli spunti l'abbiamo detto che fa abilita connette mette insieme incuriosisce educa il capo quello lo fa ancora se ha la capacità dialettica di incastrarlo alle sue debolezze gli racconta che la vulnerabilità è parte del coraggio quando invece immagina che sia la parte opposta del coraggio stesso o il capo che ti chiede ma perché le risorse non ridono perché le risorse lavorano faticano si dice dalle mie parti e non è necessariamente detto che debbano ridere certo devono star bene ecco il valore dello star bene insieme è quell'intelligenza collettiva sulla quale tutti ci interroghiamo sono stato due giorni fa a parlare col professor Rasetti ci aspettiamo che il domani il nostro cervello brucia 20 watt ed è ancora l'intelligenza più efficiente che ci sia nel senso artificiale o naturale che sia ma è quella che consuma meno quindi rischiamo di andare avanti a mettere rack dentro ai nostri laboratori e poi si scontreremo con l'aspetto ambientale cioè con quanta energia occorre per generare e alimentare l'intelligenza artificiale e anche la generativa che in realtà è il cuore ormai nel quale viviamo tutti noi e non possiamo oggi fare i sanfedisti rispetto a questo tipo di tecnologia perché non è stata è e sarà il futuro e dovremo fare i conti con questa dimensione nella quale qualcuno ci diceva l'Europa fa le regole l'America e la Cina fanno i soldi e non era uno qualunque era il braccio destro di Obama quindi manca a dire che era trampiano c'era uno che però dobbiamo rivendicarla invece questa cultura delle regole la cultura etica dell'immaginare che qui in Europa si fanno cose diverse che abilitano il business ad essere un business che abbia a cuore una dimensione che è quella umana quella della sostenibilità quella del lungo periodo quella delle lancette delle ore e questo il valore della comunità delle imprese europee e lo rivendico anche come paese cioè l'idea che ha Aspi oggi si ponga al centro della discussione di come rilanciare il paese attraverso le costruzioni facendo tesoro di una cosa che oggi vedo molto più forte di prima l'interrelazione tra le imprese tra le grandi imprese del paese oggi si dialoga molto di più si coopera non solo si condivide la condivisione sta a zero cioè nel senso è un fatto interessante ma se non si coopera la condivisione resta un pezzo di carta come gli accordi quadro che facciamo in giro con le università se non li riempiamo di contenuti esce solo l'articoletto ieri sul giornale con l'università di Bologna ma poi il bello viene dopo ed è la stessa cosa io nel ruolo dell'HR vedo oggi una comunità di HR che rivendica un ruolo strategico nelle imprese che non è solo di sense making collettivo ma è anche di sense making individuale per arrivare a raccontarci che i singoli talenti le singole persone e su questo un po' di contraddizione veniva sottolineata prima nelle parole di dire certo la liceizzazione del paese ci porta ad avere comunque dei numeri bassi rispetto alla Corea del Sud facciamo un'analisi anche di sistema un po' più complesso in Corea del Sud abbiamo il numero di suicidi e il numero di marginalizzazioni sociali più alti del mondo ma questa è un'altra storia certamente noi rivendichiamo la necessità di avere nuovamente abilitati dei mistieri quindi abbiamo non solo il terzo livello da alimentare abbiamo un secondo livello da qualificare e sostenere e lo facciamo anche lì con l'idea che la complessità sia un'opportunità in fisica si dice che i sistemi complessi si attraversano e si confrontano solo con sistemi complessi e quindi la complessità del nostro sistema aziendale è tale che deve rivedere i suoi processi deve rivedere la sua organizzazione inventarsi qualcosa di nuovo per ingaggiare i talenti e fare in modo che la coscienza collettiva e la conoscenza e la competenza collettiva siano l'unica arma per affrontare il futuro come lo facciamo? rivedendo i processi costruendo delle dimensioni organizzative variegate in cui apparentemente domina una legge di caos ma questo è stato l'altro elemento che Heisenberg ci ha raccontato cioè oggi dobbiamo avere a che fare non sempre con una dimensione di causa e effetto oggi dobbiamo avere a che fare con le probabilità la scodella se la metto al contrario è un sistema stabile se la metto al contrario e ci metto la pallina sopra non so dove cadrà questo è il tema che HR oggi affronta nelle aziende non perché è più bravo ma perché è più curioso perché osserva l'umanità cerca anche di predirla ogni tanto senza troppe velleità però questo è il ruolo cioè anticipazione e predisposizione individuale a ciò che accadrà provando a farlo accadere nel modo migliore quindi è quello che dicevamo e forse dopo si discuterà su la gestione veniva sottolineato prima dell'HR che ha a che fare con la gestione dei rischi il consequent management è diventato parte integrante della capacità dell'HR di leggere l'effetto che fa l'effetto che fa sulle tecnologie l'effetto che fa la tecnologia sulle competenze l'effetto che fa la competenza sulla capacità delle persone di essere agili abili arruolabili responsabili ecco questa è una parola che stamattina non ho ancora sentito mi fermo per la seconda domanda che non so dove va a parare ma io come dire cercherò sempre la scusa per dire qualcos'altro però c'è tantissimi spunti Gianluca di questo ti ringraziamo perché ci hai dato anche come dire in modo forte l'immagine della grande trasformazione che Autostrade ha dovuto fare e sta facendo perché ha dovuto come dire come hai detto tu prima da qualcosa di molto negativo tornare fuori come un elemento di sopravvivenza e quindi riuscire ad essere davvero attrattiva per le persone e motivante per le persone che poi diciamo sono all'interno dell'organizzazione ecco raccontaci un po' più di che cosa in particolare avete fatto rispetto ad essere attrattivi ad essere come dire a fare retention sui vostri sulle vostre persone com'è che ci siete riusciti perché tu hai dato un'immagine che è forte anche del come il brand si è trasformato di cosa significa anche il 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 parpo e quindi lavorare sul parpo il dare sense making e dare un contesto dove le persone si possono sostanzialmente sperimentare dove si possono misurare dove possono proprio trovare la loro dimensione internamente ed esternamente sì dicevo prima è stato facile il rimbalzo, è un paradosso ma chiaramente la drammaticità e stare lì a un passo dalla revoca della concessione, mi dettero la lettera d'impegno in mano che la sera si discuteva di, è un rimbalzo ben più facile dal trovare oggi delle dinamiche con le quali ingaggiare le persone ed essere più attrattivi oggi. Oggi il nostro tema non è stato tanto uscire perché lì c'è una dimensione di sopravvivenza, dicevo prima, quindi c'è quasi un modo istintivo dell'impresa di fare tutto il necessario anche di più in una maniera anche meno organizzata di quanto no, perché poi ti guardi dietro e dici sì però per eterogenesi dei fini alcune cose sono avvenute ma non era proprio così voluta. Che cosa abbiamo imparato però per fare qualcosa di meglio dopo? Innanzitutto la costruzione di una comunicazione molto più agile con le persone, cioè oggi insegnare e raccontare i mestieri è diventato un'esigenza fondamentale per l'HR. Un HR che ai tempi io vivevo in un plant, la mia dimensione confine era anche un po' di salvaguardia quasi da cuccia, dico io fuori da questo confine, ma perché? Ecco, immaginare oggi invece una dimensione nella quale è la frontiera l'elemento che ti abitua a conoscerti meglio, a conoscere i limiti e a capire dove andare, ci siamo sempre spostati nell'idea di costruire delle scomfort zone o delle discomfort zone come si dice in inglese, per abituare le persone a rendersi anche conto dei limiti, ma non come un elemento negativo sul quale giudicare. Abbiamo introdotto un 360 in un'azienda che tutto sommato tutta questa vocazione e questa capacità di giudizio non l'aveva, che è un altro dei rischi, perché poi gli strumenti ci sono ed è anche la bellezza di quello che affrontiamo noi oggi, copiarci, proprio non è, dicevamo prima citando qualcuno, Ducasse, no? Cioè copiarci è una roba interessante, perché dal copiarci poi miglioriamo, poi facciamo qualcosa in più, qualcosa di diverso, ma io credo che la comunità HR oggi abbia questa capacità di raccontarsi, io e Mauro ci siamo sentiti, che ne so, la settimana scorsa per confrontarci, perché un manifesto poteva essere più di retroguardia che di avanguardia? Ed è vero, cioè questo confronto oggi io lo sento molto più vivo e anche grazie a Mersa, adesso ne faccio un po' di pubblicità a progresso, bravo, perché è una capacità questa di stare nelle aziende e di mettere le aziende insieme a parlarsi in maniera molto più cooperativa. Che facciamo per i talenti? Per i giovani direi, abbiamo costruito le academy come tutti, perché ci siamo resi conto che c'è questo gap che va colmato, o in realtà non va neanche colmato, ma va ritenuto che il T con zero in azienda sia qualcosa di diverso dal T con N nell'università. Vale anche sulle scuole di mestiere, perché dicevamo che questo dualismo è necessario, noi cerchiamo 10.000, anzi gli edili chiedono 100.000, erano i tempi in cui c'era il 110 e quindi c'era una bagarre mostruosa sul dove lavorare più comodo ma guadagnando lo stesso, perché poi il sud è bacino nel mondo delle costruzioni, quindi la territorialità è un altro tema sul quale ci dibattiamo e non siamo l'America che vive della concezione della coesione sociale e dell'opportunità, dove sta l'opportunità io vado. Il nostro nomadismo è molto meno marcato e l'università si deve fare carico di questo, perché abbiamo non polarizzato le eccellenze del nostro paese, ce le abbiamo molto distribuite, ma l'offerta formativa implica un nomadismo non sempre assecondato dai costi e quindi l'edilizia scolastica, l'edilizia universitaria, i convitti e tutto questo che poi diciamo sì l'università, ho capito, quale, come, sono anch'io d'accordo assolutamente che in questo spazio non si può introdurre la sola certificazione, cioè la qualità di un percorso universitario magistrale, dico io, dopo aver affrontato anche le triennali, è un'esigenza incomprimibile del paese per guardare avanti con ottimismo al futuro, però vuol dire che la telematica ha un suo, ma non può essere, il surrogato ai comportamenti, perché quello che manca all'impresa rispetto ai giovani che affrontano il mondo dell'università o della scuola è l'adozione di comportamenti organizzativi, di una capacità di stare nelle comunità in un certo modo, ancor più che le competenze tecnico-specialistiche che apprendono sicuramente con una velocità superiore, con una devozione superiore a tenere dei tempi di ingaggio importanti, ma certo non più con il pensiero saggio, ciò che scontiamo sicuramente è questa mancanza di saggezza, quindi una visione integrale e larga dell'impresa, però attraiamo i talenti attraverso la capacità di comunicare, attraverso la capacità di allungare gli onboarding per affrontare il tema dell'oping, quindi arrivo a due anni in questo accudimento, però la generazione Netflix ormai ti impone di avere a scaffale quasi tutto quello che può chiederti, però se non gli piace il film se ne va comunque, cambia piattaforma oltre che canale, perché la mia piattaforma non è più soddisfacente e quindi entrano in gioco tutte le dinamiche con le quali oggi le retribuzioni sono piccola parte di quella che è il complesso della relazione che stabiliamo con loro, è una parte fondamentale, lo dicevano prima per i contratti, per la sostenibilità dell'impresa stessa, perché poi i fenomeni inflattivi li patiamo anche sul costo del lavoro, ma dobbiamo in qualche modo allargare questo ventaglio immaginando a soluzioni che siano da cassetta, avvicinandoci alle persone. Gianluca grazie, hai toccato tantissimi punti, fammi dare qualche dato, anche a supporto visto che siamo Mercer e quindi qualche dato, come dire, ce l'abbiamo. Abbiamo visto, e l'hai detto anche tu, come è cambiata diciamo il contesto economico, l'abbiamo visto anche prima, abbiamo visto sostanzialmente la difficoltà di attrarre e trattenere talenti, però diamoci dei numeri che mi ho detto, innanzitutto noi abbiamo intervistato i CEO e i CFO lo scorso anno e ci hanno detto che per i prossimi anni loro vedevano comunque, nonostante la difficoltà economica, l'innalzamento della domanda, la difficoltà comunque di non riuscire con i modelli attuali di gestione del talento di far fronte a questa domanda. Prima hai toccato un punto che è assolutamente fondamentale, cioè che abbiamo visto anche questa mattina, quello della ridefinizione dei processi, perché fondamentalmente i processi di talent management oggi non sono più, fatemi andare avanti, quelli che ci permettono di gestire la complessità che raccontavi e non sono più quelli che ci permettono di avere tutte queste cose a scaffale dove le persone sostanzialmente possono scegliere e costruire quello che vogliono. Allora, qual è la visione delle organizzazioni rispetto a questo? Tutte le organizzazioni si stanno, come dire, orientando verso la ridefinizione di modelli talent management fondati sulle skill, sulle competenze che siano tecniche e soft, ma dove questo flusso di talenti sia un flusso continuo, quindi io non faccio più la fatica di cui parlavamo prima, ma è un flusso continuo che io posso anche spostare facilmente all'interno dell'organizzazione, quindi diciamo di un'organizzazione che è decisamente più agile e flessibile. Quindi le organizzazioni, come ci siamo detti, vogliono essere innanzitutto consapevoli delle skill che hanno e sapere che cosa hanno al proprio interno per prendere decisioni sostenibili, per sapere se fare delle strategie di buy, di build o di condivisione di talenti. Sono aziende che vogliono essere strategicamente agili, come ci siamo detti, quindi offrire delle opportunità su cui poi le persone possono sostanzialmente costruire, le aziende vogliono essere sostenibili perché la ridistribuzione sostanzialmente del talento ci permette di essere anche più cost effective e sostanzialmente di utilizzare al meglio le nostre persone. Dopo questo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a sentire anche le organizzazioni, a intervistare i vostri colleghi, le HR, per capire dove sono le aziende oggi rispetto a questo mondo. Quello che si vede è una fotografia dove ci sono ancora tante cose da fare, perché se andiamo sempre a guardare i dati vediamo dei numeri che sono un po' preoccupanti, soltanto diciamo meno della metà dell'organizzazione ha un piano di strategic workforce planning e quindi come dire, sa e consapevole forse delle competenze di oggi ma poco consapevole delle competenze critiche di domani. Ci sono circa la metà delle aziende che hanno delle strategie chiare in termini di acquisition e in termini di sviluppo, quindi cosa acquisire sul mercato e cosa sviluppare. Pochissime aziende, almeno dalla ricerca, utilizzano degli strumenti per capire che tipo di competenze hanno e come dire, se andiamo poi agli strumenti agili che permettono dei mercati aperti del talento, quindi sempre di più insieme a voi parliamo di talent marketplace, di sistemi che consentono la gestione del talento in modo più trasversale, che permettono alle persone di fare come dire menu e scegliere l'opportunità che più mi aggrada per acquisire delle nuove skill, in realtà vediamo che meno di circa un terzo, scusate, dell'organizzazione ha un internal talent marketplace, meno del 10% delle organizzazioni gestisce i talenti in modo comune in sharing con altre organizzazioni, circa poco più di un terzo include nelle opportunità di sviluppo anche short term assignment, progetti e ancora più preoccupante è che soltanto il 20% delle aziende danno comunicazione a tutti, quindi in modo indistinto, delle opportunità di carriera e di apprendimento delle skill a tutte le organizzazioni. Se andiamo all'ultimo blocco, scusatemi, vediamo che un po' più del 60% dell'organizzazione ha dei percorsi e delle opportunità che consentono alle persone di allineare le proprie aspirazioni. Ci siamo detti tutte queste belle cose, però poi se andiamo a vedere i numeri ci danno un po' una realtà diversa. Qual è la difficoltà sostanzialmente per arrivare a rendere queste organizzazioni davvero agili, davvero flessibili e gestire in modo, diremmo così, più trasversale, più open davvero il talento, così come i nostri giovani si aspettano, perché questo è poi il tema, i nostri giovani questo si aspettano. I nostri giovani sono un po' moretti, anch'io mi sento giù. Se scorrono e scorriamo tutti questi strumenti, credo che nessuno di noi non possa dire ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, poi pizza balla, manca perché era una delle figurine meno diffuse nei calciatori panini. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, l'abbiamo fatte tutte, l'abbiamo rifatte tutte, le abbiamo reimmaginate tutte. Il tema vero è che il workforce planning probabilmente ha la stessa visibilità che abbiamo noi, cioè nel senso se oggi ci raccontiamo che il 70% dei mestieri sarà devastato e riscritto con paradigmi differenti, il nostro workforce planning quando e se le aziende sono in grado di consolidare dei fabbisogni specifici perché le linee vanno educate a una capacità pianificatoria che è ancora uno dei temi di questo paese, benché, voglio dire, ci siamo sforzati per anni a immaginare che mettere dentro controllo di gestione è diventato il mantra di tutti, quindi avere pianificatori, pianificatori di primo, secondo, terzo livello, avere program management super strutturati che è veramente il pane quotidiano col quale le imprese oggi reggono le sfide del domani, ciò non toglie che fare un workforce planning probabilmente è uno strumento davvero di breve periodo, cioè viaggio a vista. E in questa dimensione qual è l'altra dimensione che ci predispone al futuro che cambia e invece andare ad attrarre il talento che è in grado di viaggiare con una visione di adattabilità diversa. E quindi noi stiamo lavorando su palestre relazionali, funzionali, a dirci che quello che diceva anche il mio vecchio capo, cioè il talento appartiene all'azienda, non appartiene alla linea. E quindi immaginare quegli incubatori nei quali, quindi roba degli anni 90 o del 2000, diventano la riscoperta della ruota, cioè è fondamentale oggi avere un commitment alto con l'azienda per immaginare che i percorsi trasversali all'interno dell'azienda, che siano orizzontali tendenzialmente, benché la richiesta spesso e volentieri di assumere responsabilità e fare esperienze. Devo dire che la nuova generazione da questo punto di vista non è richiedente come un tempo soltanto sull'aspetto del vil denaro che tale non è, però la remunerazione si fa qualcosa di più complesso e quindi l'imparare, il disimparare, il reimparare, che abbiamo tutti ormai nel nostro vocabolario, è diventata la strategia d'impresa, cioè garantire che queste risorse abbiano capacità di perdere il proprio know-how e riacquistarlo continuamente. Noi abbiamo quadruplicato la nostra attività di formazione all'interno dell'azienda, il che ci dice anche qualcosa forse sulla sicurezza e la qualità del business. Perché se immaginiamo ogni volta di doverci porre la domanda, ma qual è il ROI sull'investimento in formazione che faccio? E ogni capo ci chiede, ma mi dimostri che quel milione speso poi sia... Ecco, la dimostrazione più concreta sta o negli eventi drammatici o nella capacità dell'impresa di tenere il passo col tempo che cambia e con la qualità costante che necessita un business che si occupa di infrastrutture. E i giovani seguono, seguono i giovani, ma devono seguire anche le altre generazioni. Quello delle quattro generazioni all'interno delle imprese è un tema. E l'intelligenza artificiale, quel workforce planning, lo deflagherà. Perché quei bacini di compensazione nei quali costruire nuovi mestieri apparterranno a tutte le strutture di staff e non solo. Perché quei microprocessi che dobbiamo abilitare attraverso la generativa ci darà l'opportunità invece di avere degli spazi di crescita competenziale delle nuove generazioni, che si vedranno spossessare di ambiti per i quali, un volta dicevamo, le attività non nobili le diamo fuori, le attività nobili le teniamo. Ecco, questo make or buy funziona all'interno e il buy è la generativa, perché oggi quella dimensione lì ti genera una conoscenza della quale oggi il calcolo computazionale diventa la mentalità del giovane. Che domanda faccio? Come pongo la domanda? E quindi oggi non è neanche solo un tema di trovare l'ingegnere, è trovare il buon linguista, il semiologo, il filosofo. Perché come ci dicevamo, complessità chiama multidisciplinarietà e chiama di nuovo collettività per poter essere gestita e contenuta. E come ci dicevamo prima chiama anche un'altra cosa, è verissimo che non abbiamo palle di cristallo, è altrettanto vero che in questo momento la capacità di pensare sistematicamente che significa avere da una parte un telescopio e quindi un occhio che guarda lontanissimo e dall'altro un microscopio, un occhio che guarda al molto vicino, è quello che ci aiuta a essere longevi e oltre che longevi, non solo a sopravvivere, ma che ci permette magari anche di fiorire in parti che non stavamo aspettando. Io vorrei ringraziare perché siamo in chiusura e abbiamo da, come dire, tante cose belle che ci racconteranno anche chi viene dopo di noi. Quindi ringraziamo Gianluca di essere stato con noi.